Il prossimo Ministro della Cultura, Vittorio Sgarbi. L'indicazione e provocazione arriva dall'affermato artista pratolano Silvio Formichetti nel corso delle trattative in atto per la formazione del nuovo governo a guida Fratelli d'Italia. Formichetti, che aveva costituito in Valle Penini il Movimento Rinascimento, che faceva capo proprio al critico d'arte, lancia il suo appello alla premier in pector e Giorgia Meloni, eletta proprio in provincia dell'Aquila, non altrove. Nell'ultimo periodo Sgarbi ha fatto pace anche con la città di Sulmona, con la quale divorziò due anni fa in pieno Covid e in contrasto con gli allora amministratori. Nelle prossime ore, non a caso, è in programma la premiazione dell'edizione 2022 del premio Sulmona che segna il suo ritorno. Per Formichetti Sgarbi è la figura più adatta per ricoprire il ruolo di Ministro della Cultura, al di là dei colori e della matrice politica, vista anche la candidatura del caporoco Peligno a Capitale Italiana della Cultura 2025. Ecco perché, concluse l'operazione di voto in Parlamento per l'elezione dei rispettivi presidenti, è inteso lanciare l'appello provocazione.